Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura parliamo del tentato omicidio di ieri sera. Domani si terrà l'udienza di convalida per l'uomo arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio. La guardia giurata che ha colpito farendo gravemente il cognato con un colpo d'arma da fuoco. Mia figlia stava studiando in camerina, ha sentito delle voci, gridare, aiuto, aiuto. Serata di paura in via, benvenuti ad Arezzo dove una guardia giurata ha sparato al cognato. L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio. Il violento episodio si è consumato poco dopo le 18.30 al quarto piano di una delle palazzine della zona. Le ragioni che hanno portato la situazione a degenerare sono ancora al vaglio degli inquirenti. Spari non l'ho sentito io, ho sentito piangere a quella signora che era lì e basta. Nessuno ne sarebbe mai aspettato che potesse accadere una cosa del genere. Tutto sarebbe nato da una discussione maturata in ambito familiare tra la guardia giurata, Francesco Colonna, di 41 anni, e la sorella, la moglie dell'uomo ferito. La donna ad un certo punto avrebbe chiamato il marito e da qui la situazione sarebbe degenerata. Il 41enne avrebbe impugnato la pistola ed esploso un colpo contro il cognato Luca Valli, di 46 anni, colpendolo all'addome. Per me è un ragazzo tranquillo, bravo. Probabilmente ho detto, io ho un litigio forse fra fratello e sorella, intervento anche il marito. In momenti di ira probabilmente si può commettere qualsiasi cosa. Sul posto, polizia di Stato, polizia municipale e personale sanitario che all'arrivo ha trovato un uomo riverso in un lago di sangue. Dopo il trasferimento in ospedale, il 46enne è stato sottoposto ad un delicato intervento per la rimozione del proiettile. La prognosi resta riservata e soltanto nelle prossime ore i medici potranno comprendere le reali conseguenze cliniche. Sono parente io. Più che altro non me l'aspettavo. Cioè è un po' inaspettato. È dura. La guardia giurata invece è stata portata in questura ed interrogata nella notte e è stata poi trasferita nel carcere di San Benedetto con l'accusa di tentato omicidio a disposizione del pubblico ministero di turno, Giulia Maggiore. Proseguono senza sosta le ricerche della coppia di anziani stranieri irreperibili da mesi. Marito e moglie erano partiti alla volta dell'Italia con destinazione alla provincia di Arezzo, dove hanno una casa ma di loro si sono persi improvvisamente le tracce. Uno dei figli della coppia si era già rivolto all'avvocato Aretino Emiliano Bartolozzi per denunciarle la scomparsa e così le forze dell'ordine hanno dato avvio alle indagini. Anche l'amministrazione comunale di Capolona ha cercato di fare da sua parte, fornendo quanto possibile indicazioni agli inquirenti. Secondo i primi accertamenti fatti dai carabinieri, nessuna pista al momento esclusa, quindi nemmeno quella dell'allontanamento volontario. In Valdichiane invece c'è stato un nuovo avvistamento di un lupo. Questa mattina alle 10.10 un esemplare è stato avvistato e fotografato a Pia Valtoppo. Nei giorni scorsi in provincia si era costituito un comitato popolare che chiede alle istituzioni misure per il controllo della specie dopo gli episodi di animali di allevamento e domestici azzannati. Domani alle 21 nella sala parrocchiare di Rigutino il primo incontro pubblico del comitato Emergenza Lupo. Ci spostiamo adesso sull'autostrada del Sole nella Milano-Napoli per consentire lavori di manutenzione dei portali di segnaletica verticale. Dalla mezzanotte alle 4 di lunedì 30 gennaio sarà chiuso il tratto compreso tra Rezio e Monte San Savino verso Roma. L'area di servizio Badial P9 sta situata all'interno del suddetto tratto sarà chiuta dalle 23 di domenica 29 alle 4 di lunedì 30 gennaio. Voltiamo pagina per passare alla politica. Oggi è tornato a riunirsi la Consiglio Comunale a Rettino al quale è arrivata anche una lettera anonima. Nuovi controlli alla clinica San Giuseppe Hospital di Arezzo dove è stata riscontrata la presenza del batterio della legionella. Il caso ha riguardato una donna di 64 anni deceduta a distanza di alcuni giorni da un'operazione chirurgica effettuata nella clinica. Era stata dimessa il 19 novembre ed era poi rientrata a Salerno dopo alcuni giorni. Aveva accusato febbre e difficoltà respiratorie la 64enne è morta all'ospedale di Vallo della Lucania pochi giorni dopo la diagnosi di polmonite da legionella. Da lì si è poi risaliti al ricovero nella rettino e sono scattati i primi controlli che hanno dato esito positivo. In tutto quattro le ordinanze firmate dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli per vietare l'ingresso nelle quattro sale in cui era stata riscontrata la presenza del batterio ed effettuare controlli e sanificazione. L'ultimo campionamento lo scorso 4 gennaio dopo che la proprietà aveva avvertito dell'avvenuta disinfezione ma anche questa volta tre degli otto campionamenti erano risultati positivi. Da qui le ulteriori prescrizioni per giungere alla completa eliminazione della legionella. Oggi altri campionamenti e nei prossimi giorni sapremo i risultati. Intanto la clinica ha già ottemperato a delle richieste previste dalle ordinanze del sindaco in termini di sanificazione e bonifica. Tra le emozioni presentate alla sindaco e alla giunta anche quella di Fratelli d'Italia che chiede l'installazione di un dispenser di assorbenti gratuiti nelle scuole della provincia. Negli anni ho visto tante ragazze macchiarsi e un aumento del disagio che ne scaturisce il fatto che è importante e quindi questo tende a diminuire il disagio quindi andare incontro ad una problematica che è reale un po' come accompagnare la ragazza bambina la definirei a 12 anni nel suo percorso adolescenziale. Assorbenti gratuiti nei bagni delle scuole e a retine questa la proposta avanzata da Fratelli d'Italia al sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e alla giunta per l'installazione di dispenser negli istituti secondari di primo grado e nelle superiori. È una nostra battaglia che portiamo avanti tanto è vero che il governo Meloni subito dopo l'insediamento ha ridotto l'IVA dal 10% al 5% e negli anni, nel futuro, si prevede di azzerare, di abbattere l'IVA per i dispositivi di protezione per l'igiene femminile. Lì è stato fatto un passo avanti e ne vado fiero. Abbiamo fatto questo primo passo ad Arezzo che spero si realizzi nel minor tempo possibile per poi promuoverlo attraverso i nostri deputati e senatori. La richiesta sarà allargata anche alla provincia di Arezzo per le scuole gestite dall'ente. Ed è proprio lì che è stata presentata questa problematica anche se in età dai 15 anni in su dove si affrontano le scuole superiori risulta tutto molto più semplice perché il ciclo inizia a regolarizzarsi il disagio iniziamo a viverlo in maniera diversa per cui, sì, comunque estenderemo la nostra proposta anche alle scuole superiori. Da oggi Arezzo è parte attiva di una comunità di autorità locali e regionali europei concretamente impegnate nelle politiche di adattamento ai cambiamenti climatici. L'obiettivo è quello di dare vita ad una modalità di azione inclusiva che coinvolga seconder, società civile, rimprese, enti di ricerca e cittadini nella mobilitazione di risorse e nello sviluppo di attività mirata al raggiungimento degli obiettivi condivisi con gli altri firmatari. Questo quanto è dichiarato dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli che questa mattina ha preso parte a Bruxelles la giornata di lancio della comunità di pratica della missione europea per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Il comune di Arezzo è stato infatti selezionato come membro della missione lo scorso dicembre quando ha formalizzato la propria adesione con la firma della carta di missione in linea con le proprie strategie politiche e di mandato. Cambiamo argomento Vittoria Doretti è stata confermata come responsabile della rete regionale Codice Rosa. Intanto il ringraziamento ovviamente va alla fiducia alla mia direzione sicuramente una direzione molto attenta e alla governatore a tutta la Toscana a tutte le colleghe e colleghi anche della Toscana. La dottoressa Vittoria Doretti medico dell'ASL Toscana Sud-Est è stata riconfermata come responsabile regionale del Codice Rosa. Il Codice Rosa è un percorso di accesso al pronto soccorso riservato a tutte le vittime di violenza in particolare donne, bambini e persone discriminate. Lo vediamo anche noi c'è una percentuale importante anche nei femminicidi di donne oltre 65 anni dove esiste sicuramente la violenza dove occorrono occhi e percorsi particolari. Nel 2011 con la sottoscrizione del protocollo di intesa tra la regione toscana e la procura generale della Repubblica di Firenze diventa un progetto regionale prevede percorsi gender sensitive di accoglienza, cura e tutela delle persone vittime di violenza e abusi. Continua in modo molto attento le grandi sfide sono anche quelle post-covid dove per chi è vittima di violenza le donne con il percorso donna ma anche tutte i bambini e chi ha discriminazioni multiple i famosi crimini di odio occorre un'attenzione ancora più accentuata soprattutto su quelli che sono i percorsi territoriali quindi grande attenzione siamo capofila con un progetto molto forte nella formazione medici di medicina generale 118 consultori quindi non solo pronto soccorso ma anche il collegamento noi abbiamo investito tanto su una cosa che mi hanno insegnato le grandi donne dei centri antiviolenza ed è lo sguardo lo sguardo di chi ascolta non giudizio lo sguardo avere il coraggio di chiedere ma con rispetto anche non chiedere ma restare accanto esserci senza giudicare nessuno ma ci siamo e questo è un tema che ci sta a cuore credo sia questa l'importanza forse più forte di codice rosa quella di voler abbattere la solitudine non solo delle vittime ma anche dell'operatore e dell'operatrice che si trova di fronte a questo che è un crimine contro l'umanità ancora sanità bilancio positivo quello sugli interventi di chirurgia ortopedica tracciato dal direttore Roberto Redi degli ospedali di Arezzo Sansepolcro e Bibbiena secondo l'ultima indagine effettuata dall'istituto Sant'Anna di Pisa il San Donato ha il più alto numero di interventi di chirurgia robotica per protesi ed anche ginocchio a livello regionale un primato che fa del reparto Aretino un'eccellenza in Toscana e adesso parliamo del caffè dei costanti chiuso da più di un anno adesso è in vendita tra i possibili acquerenti c'è anche Patrizio Bertelli aveva chiuso oltre un anno fa tra l'amarezza e il dispiacere dei clienti fedeli adesso nel futuro del caffè dei costanti ad Arezzo potrebbe esserci Patrizio Bertelli il patron del gruppo Parada ex amministratore delegato sarebbe infatti intenzionato ad acquistare la storica attività davanti alla basilica di San Francesco Bertelli avrebbe presentato una manifestazione di interesse per l'acquisto del caffè a mettere all'asta lo storico esercizio al prezzo di 1.400.000 euro banca intesa proprietaria dell'immobile che lo ha ereditato da Banca Etruria il bando per l'acquisto del locale dovrebbe essere ufficializzato a giorni il patron di Prada sempre nella stessa piazza ha già acquistato anche la buca di San Francesco storico ristorante celebre per aver ospitato personalità del mondo della cultura e del cinema ma anche re e presidenti lo storico caffè dei costanti si trova in piazza San Francesco proprio di fronte agli affreschi della leggenda della vera croce di Piero della Francesca è famoso anche per alcune scene del film premio Oscar la vite bella di Roberto Benigni le immagini del caffè vietato agli ebrei e ai cani sono state girate infatti proprio lì domani 27 gennaio si celebra la giornata della memoria e per l'occasione la fondazione Ivan Bruschi ha inaugurato la mostra le banconote della Shoah le banconote della Shoah storie di denaro nei campi di concentramento così si ricorda la giornata della memoria alla fondazione Ivan Bruschi si tratta di circa 150 esemplari di buoni denaro che circolava solo all'interno dei campi di concentramento nazisti facenti parte della collezione di carta moneta Bistoni custodita all'interno della casa museo Ivan Bruschi già in uso nei campi di prigionia della grande guerra durante la seconda guerra mondiale vennero utilizzati in sostituzione delle banconote di corso legale per pagare il lavoro dei prigionieri ci si poteva comprare qualcosa negli spacci se ci fosse stato ecco noi sappiamo che le banconote di Theresienstadt furono utilizzate esclusivamente per il prestito dei libri prestito che aveva un prezzo altissimo e che quindi chiaramente spesso non veniva utilizzato ecco ci sono delle particolarità che lei rilevava nel suo racconto come ad esempio quella stampa là chi ha diciamo ideato questa grafica ha fatto anche una sorta di denuncia posteriore ebreo che ha ideato questa grafica e in più ha espresso diciamo il suo il suo pensiero facendo in modo che la parola lager che vuol dire campo in realtà fosse scritta liars che però vuol dire assassino e che quindi non è più il campo di concentramento ma sono gli assassini del concentramento riferendosi alle due ai due soldati che stavano sul buono storia particolare quella raccontata nella sezione dedicata al campo di Theresienstadt conosciuto come Terezin titolo anche del film propaganda che doveva testimoniare il regalo di Hitler agli ebrei una città Terezin appunto dove la vita scorreva serena e felice ma tutto questo è falso c'è stata tutta una grandissima messa in scena e questo film è stato fatto per pubblicizzare diciamo di propaganda per far vedere che in realtà in questi campi di concentramento non si stava così male compreso il fatto di volere per tacitarsi la coscienza su ordine del Reich Mosè che tiene in mano le tavole della legge però copre con la mano il quinto comandamento non assassinare però qui ci sono poi le fotografie dei dormitori e uno si rende conto benissimo di come stava considerato che il regista di tutta questa di tutta questa messa in scena e di questo film insieme a tutti gli attori una volta che la Croce Rossa ha visto quello che doveva vedere sono stati tutti deportati a Auschwitz e tutti soppressi in mostra anche le banconote di quella che verrà ricordata come Operazione Bernard la più grande opera di falsificazione della moneta stavolta di corso legale della storia contemporanea era stata fatta dai nazisti per fiaccare l'economia inglese attraverso l'emissione di un massiccio quantitativo di sterline false e naturalmente queste sono state fatte nel campo di Sackenhausen da personale ebreo che chiaramente aveva delle competenze nella tipografia nell'incisione nei segni ecco la mostra rimarrà aperta fino al prossimo 30 di aprile da Lucignano invece arriva una canzone rap scritta e cantata dagli studenti della scuola media si tratta di un'iniziativa anche questa per la giornata della memoria popolo in cammino da dio era il più amato lo dice la scrittura da abramo fu guidato dalla schiavitù in egitto obbligato a stare zitto o questo è il suo destino popolo in cammino una canzone rap per prestare la voce ai testimoni diretti della Shoah questo è il progetto con cui gli allunni delle classi terze della scuola media Ritalevi Montalcini di Lucignano hanno partecipato lo scorso dicembre alla ventunesima edizione del concorso scolastico nazionale i giovani ricordano la Shoah indetto dal ministero della pubblica istruzione sotto l'alto patronato del presidente della repubblica e in collaborazione con l'unione delle comunità ebraiche italiane nell'estate del 38 il manifesto della razza ci coglie di sorpresa ci spazza dalla piazza divisi dagli ariani non siamo più italiani a guidare i giovani studenti il pensiero della senatrice Liliana Segre che in una videotestimonianza ha spiegato la metafora del filo nero filo nero sole leggi dentro cui siamo finiti che ci portano dritto ai campi dove siamo sterminati noi divisi dagli affetti e trattati come infami siamo ombre di noi stessi non siamo più umani dall'ascolto delle testimonianze è così nata la canzone rap ma che razza di razza scritta più umani e cantata più voci infine è stato anche realizzato un corto dove le parole sono state accompagnate dai disegni dei ragazzi e dai loro volti come nuovi testimoni Shoah è una tempesta che atterra e che devasta ma nel mese di gennaio pensarci non mi basta ma che razza di razza la razza non esiste purtroppo nell'errore c'è ancora chi persiste lo disse pure Einstein fermato alla dogana gli chiesero la razza rispose quella umana passiamo allo sport al calcio via libera per la prevendita dei biglietti della partita di terra nuova che si giocherà domenica alle 14.30 allo stadio Matteini questo quanto stabilito dal tavolo tecnico per l'ordine pubblico e la sicurezza che ha destinato ai tifosi a Maranto 450 posti in tribuna ogni biglietto sarà associato a un nome un cognome e una data di nascita dell'utilizzatore alla fine quindi è stato deciso di convogliare i tifosi ospiti in un unico settore quello della tribuna così come anche accaduto nella partita di settembre fra terra nuova Traiana e Livorno e ancora a calcio c'è anche un figlio per così dire di Sansepolcro nel trionfo della Fiorentina Primavera che mercoledì ha vinto la Supercoppa di categoria nella finalissima contro l'Inter disputata a Monza si tratta di Niccolò Falconi 18 anni cresciuto nel bivaio della Borgo e approdato in Biora nel 2019 e ad Arezzo ci saranno anche due giornate dedicate alla danza con il nonno concorso internazionale Piero della Francesca la rassegna organizzata dall'associazione progetti per la danza con il patrocinio della fondazione Guido d'Arezzo è in programma da sabato 4 a domenica 5 febbraio quando centinaia di allievi di 20 scuole da tutta Italia si ritroveranno ad Arezzo per vivere un fine settimana dedicato allo spettacolo e alla formazione questa per stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci grazie a tutti